Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. L'aumento repentino delle bollette sta mettendo in difficoltà tante famiglie, anche in Abruzzo. Dall'energia elettrica al gas, infatti, tante, forse troppe, sono le spese da sostenere e in molti non ce la fanno più. Ad essere in ginocchio sono anche i commercianti, molti dei quali resistono a fatica dopo gli ulteriori incrementi delle tariffe. A confermarlo sono le interviste raccolte a Corropoli da Ludovica Pelliccioni. I prezzi che si devono sostenere adesso per l'elettricità sono assurdi. Penso che col nuovo anno molte aziende chiuderanno, se non cambieranno le cose, perché le bollette ci sono sette volte più alte rispetto ai prezzi che si pagavano un anno fa. Perciò dal punto di vista industriale questa è una cosa insostenibile. Non so come andrà a finire, speriamo che il governo intervenga il più presto. Mi posso ritenere fortunato, uno dei pochi, che ho il contratto bloccato fino a marzo 2023, per cui il caro bollette non lo subisco, però dopo non so come andrà a finire. Ho rifatto tutto l'impianto a sparambio energetico. Nonostante ciò, mi ritrovo che sto a pagare più di prima. Un vero e proprio grido d'allarme dunque, quello che arriva dai commercianti, anche se qualcuno, per fortuna, trova anche la forza per sdrammatizzare con una battuta. Io ho bisogno che le bollette non si pagano più per niente, non ce la facciamo più, basta.